Ciao tutti i amici di Azzurri, 26 dicembre 2018 fa un reggo assurdo, santo Stefano primo unboxing day, entriamo e facciamo, gabbiamo. Merde! 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 Siete nelle merde! 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 Siamo entrati, sono le sette e mezza, quasi, ti fa zitto. Boxing day, con Fantozzi che dice, è una ragata pazzesca. Vabbè, l'accettiamo, siamo qui, saremo oltre 60.000, poi il dato dell'ufficiale avviremo. Come sembra, a fine primo tempo, vedremo il dato ufficiale. C'è un po' di nebbiolina, rispetta fuori, però il nulla. La partita si vede comunque, le foto a fine video ci saranno comunque, ce n'è solo che aspettare il concerto di Vita. ASB! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!